3 rituali di bellezza con l'aceto di mele Ai vostri rituali di bellezza quotidiani cominciate ad aggiungere un ingrediente in più, l'aceto di mele biologico. Lo trovate facilmente nei negozi che vendono prodotti di bellezza biologice in erboristeria. È diverso dall'aceto alimentare, è puro, non filtrato, non pastorizzato e conserva gran parte delle sue proprietà naturali, pronte per essere sfruttate in modo topico. L'aceto di mele è una fonte naturalmente ricca di benefici per la pelle e i capelli, è, oltretutto, un modo economico e sicuro per trattare alcuni piccoli problemi come l'acne o i capelli secchi. L'aceto di mele puro e non trattato contiene enzime e batteri molto benefici, oltre ad oligoelementi che ci aiutano ad essere più belle. Il segreto sta nell'essere costanti e nel seguire questi consigli. Rituale di bellezza per la pelle grassa. Se la vostra pelle è grassa e avete ormai provato di tutto, optate per un'alternativa naturale ed economica, scoprite le meravigliose proprietà astringenti dell'aceto di mele. L'aceto di mele puro è una fonte ricca di alfa e drossi acidi che aumentano l'afflusso di sangue alla pelle e restringono i pori. Inoltre, l'aceto di mele aiuta a regolare il pH della pelle. Ecco come funziona il primo dei nostri rituali di bellezza, quello per migliorare l'aspetto della pelle e per contrastarne la lucidità. 1 cucchiaio di aceto di mele, 10 ml, ½ bicchiere di acqua, 100 ml, 1 dischetto di cotone. Preparazione. Mescolate bene i due ingredienti, aceto di mele e acqua. Inumidite con la soluzione il dischetto o un batuffolo di cotone. Applicate sul viso con un massaggio circolare. Lasciate agire per 3 minuti e poi risciacquate con acqua fredda. Se la vostra pelle è particolarmente sensibile, aggiungete mezzo bicchiere d'acqua in più alla soluzione. Trattamento all'aceto di mele per piedi belli e senza cattivi odori. Se volete coccolare i vostri piedi, niente di meglio che immergerli per un quarto d'ora in una bacinella con acqua e aceto di mele. Non solo li sentirete più leggeri, ma combatterete il cattivo odore grazie alla proprietà antimicrobiche dell'aceto. 1 barra 2 tazza di aceto di mele, 125 ml, 1 litro di acqua 2 rametti di rosmarino. Preparazione. Per prima cosa, mettete a scaldare un litro d'acqua con il rosmarino. Una volta raggiunta l'ebollizione, versate l'infuso in una bacinella. Quando si sarà intiepidito, aggiungete mezza tazza di aceto di mele. Tenete i piedi a bagno per 10-15 minuti. Ricordate di asciugare i piedi con cura. Capelli belli, forti, brillanti e senza forfora. L'aceto di mele è anche un rimedio semplice ma fantastico per ottenere capelli morbidi e lucenti. Da un lato, aiuta a rimuovere dai capelli e dal cuoio capelluto tutte le sostanze nocive lasciate dallo shampoo o da altri trattamenti che, alla lunga, alterano il pH naturale. Inoltre, l'aceto di mele possiede proprietà antimicotiche naturali che aiutano a combattere la forfora. Infine, deterge i pori ostruiti e si prende cura dei follicoli piliferi. 2 cucchiai di aceto di mele, 20 ml, 1 tazza di acqua, 250 ml, 5 gocce di olio essenziale di melaleuca. Preparazione. Con i capelli umidi, applicate sul cuoio capelluto questa soluzione a base di aceto, acqua e melaleuca. Terminate il massaggio, lasciate in posa per altri 5 minuti. Risciacquate i capelli con acqua tiepida, quindi, applicate il vostro solito balsamo. Molto semplice ed efficace. Ripetete il trattamento due volte a settimana. Come sempre, prima di provare uno di questi rituali di bellezza, fate un piccolo test sulla pelle e assicuratevi di non essere allergiche all'aceto. Alcune persone sono sensibili a questo tipo di trattamenti naturali e quindi sarà meglio procedere con un po' di cautela. Ciò nonostante, l'aceto rappresenta un'ottima soluzione e offre sempre buoni risultati. Che ne dite di provare uno di questi rituali oggi stesso?. Grazie a tutti.